Signora al numero 3, Oliver Wise, c'è Davide Di Stefano, luogo di Lucio Becchetti. Parte arretrato Uncle Photo VL, che è il favorito, 1,28 la quota al totalizzatore. Macchina che va per staccare. Si porta al comando Siris Joy, che precede in questo momento il numero 1 di Oasis Staff. Poi all'esterno è rimasto il numero 7 di Ollolai, che si ritrae. Intanto Oasis Staff va a chiedere strada a Osiris, 14 per il primo paletto. Siamo adesso al completamento dei primi 400 metri in 29,2. Si va davanti alle tribune con Oasis Staff al comando nei confronti di Osiris Joy. Poi ancora Oxygen Deni, ora la risalita di Uncle Photo VL, che dopo 600 in 44,3 va a gravitare al lato del battistrada. Quando siamo ora sulla piegata di destra, sempre Oasis Staff al comando. Uncle Photo al suo sediolo, 59,8 il passaggio agli 800 metri. Con la seconda posizione alla corda sempre per Osiris Joy, poi la seconda pariglia presa da Oxygen Deni. Il chilometro passa in 1'13,9 con adesso l'attacco a fondo da parte di Uncle Photo VL, che cerca di sopravanzare prima della piegata Oasis Staff. Uncle Photo è passato ai tre quarti di miglio in 1'27,7 con un 3,9 di frazione sullo slancio a presa 1,5. Adesso si fa vedere anche Oxygen Deni, più indietro il numero 6 di Odessa Adesi. Quando siamo al completamento della piegata, Uncle Photo al comando, Oasis Staff all'interno. Poi Oxygen Deni e ancora Odessa Adesi. Odessa Adesi che cerca di andare su Oxygen Deni per l'attacco. Poi addirittura attacca anche Uncle Photo, che si accusa un pochino nel finale. Odessa Adesi, che nel finale viene a concludere su Uncle Photo VL. 1'57,3 per Odessa Adesi e Glauco Cicognani. Come vedete la scuderia Eurotrot, 11,62 la quota al totalizzatore. 1'13,3 la media al chilometro. Andiamo a rivedere gli ultimi metri con Uncle Photo VL, che come già gli era accaduto l'ultima volta, va un po' in calo negli ultimi 50 metri di corsa. Arriva Odessa Adesi e nel finale mette un'incollatura davanti. 6 per il primo, 5 per il secondo e il 2 di Oxygen Deni a completare il podio di questa prima da Torre di Valle. 6 per il secondo e il ruota di Valle. Grazie a tutti.